Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono dietro le ali dell'autostart i partecipanti alla prima corsa, confronto per tre anni non vincitori di 2.000 euro in carriera. All'uno Flower Griff, Roberto Vecchione, due Flash degli Olivi, Gennaro Quacileo, tre Flash Leon, Coz, Carmine Piscoglio, quattro Fistile MD, Andrea Farolfi, cinque Fatima Truppo, Marco Stefani, sei Fall in Love, JCP, Luca Lovera, sette Fringuella Jet, Andrea Vitagliano, otto Force del Prix, Francesco Virzi, 9, Fabulous Lady TC, VP dell'Annunziata. Si parte con l'errore di Fistile MD ed è veloce Fatima Truppo, che prende subito l'iniziativa nei confronti di Fall in Love, JCP, che non trova lo steccato per l'inserimento di Flash Leon, Coz. Poi Flower Griff che l'ha presa con cautela precede Fringuella Jet Flash degli Olivi all'esterno Force del Prix. 15.3 per i primi 200 metri di corsa con all'avanguardia Fatima Truppo, che Marco Stefani ha portato al comando. Figlia di Mara Jaa e Nives Manco conduce dopo 400 metri in 39. All'esterno Flower Griff, in corda rimane Flash Leon, Coz, che precede Fall in Love, JCP, poi Fringuella Jet. In seconda pariglia c'è Force del Prix, che precede Fabulous Lady TC. Ha sbagliato Flash Leon, Coz, che era secondo in corda, se ne sono andati... Numero 3 Flash Leon, Coz, squalificato. Force del Prix, che avanza, cerca di portarsi sulla leader Fatima Truppo, che ha passato in 1 e 2 i primi 800 metri. Fatima in vantaggio, Flower Griff nella sua scia, di fuori Force del Prix, poi Fall in Love, JCP, con accanto Fringuella Jet. Ancora Fabulous Lady TC e Flash degli Udivi. 1.17.4 per i primi 1000 metri di gara, con Fatima Truppo che controlla le operazioni. All'esterno si impegna Fall in Love, JCP, che aggira Force del Prix, in corda Flower Griff. La retta opposta alle tribune in 14.8. Continua a guidare Fatima Truppo, sposta dalla sua scia Flower Griff, che prova ad andare a destra della battistrada, dalla quale però allunga in corda. C'è Fringuella Jet che guadagna posizioni. All'ingresso dell'addirittura d'arrivo Fatima Truppo è in vantaggio, Flower Griff che sferra l'attacco. Insiste Flower Griff all'attacco di Fatima Truppo. I due testa a testa con Flower Griff che insiste. Sul palo Flower Griff che batte Fatima Truppo. Al terzo posto finisce Fringuella Jet. 29.7 ad arrivare il successo di Flower Griff, Roberto Vecchione per il team Ellert, i colori della scuderia Taranto, che riesce nel finale a stampare Fatima Truppo che aveva fatto il percorso di testa, ma Flower Griff sbuca dai birilli e vince di una testa sul traguardo. Roberto Vecchione perfetto in psyche per il team Ellert. Al terzo posto finisce Fringuella Jet in numeri 157, il probabile arrivo della prima corsa dal Savio di Cesena. Grazie.